Ciao a tutti, c'è un editoriale molto bello oggi di Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport riferito a Stefano Pioli, l'allenatore che non cerca alibi, l'allenatore che non si lamenta mai. Vocalelli cita tutti i casi per cui gli allenatori si lamentano dopo le partite, soprattutto quelle che non sono andate bene, ossia gli episodi arbitrali, poi vengono gli infortuni, poi qualche riferimento e qualche allusione al mercato perché non è arrivato quello che il mister chiedeva, eccetera, eccetera, eccetera. Invece Vocalelli spiega caso per caso come in tutte queste caselle, in tutte queste circostanze, Pioli invece va da dritto per la sua strada, disincantato anche dopo Milan-Spezia, tutto impegnato a non dare alibi alla squadra, non cercarli per se stesso e a guardare sempre avanti e a cercare di fare le cose al meglio, senza contaminazioni o recriminazioni o rimpianti di nessuna natura. Un articolo molto bello, ve lo consiglio sulla Gazzetta dello Sport. Lasciatemi anche ricordare un'altra cosa, vi do un altro consiglio, scaricate l'app di OneFootball. Vi dico di scaricarla perché è una ottima app di football, perché potete personalizzare le notizie della vostra squadra del cuore, in questo caso largamente. Il Milan, avete la possibilità di vedere gratuitamente gli highlights di Serie A, Serie B e Serie C. Per quanto riguarda Serie B e Serie C avete anche le partite in diretta, però in questo caso le dovete comprare, è un prezzo minimo, ma senza abbonamento, senza necessità di chissà quale iscrizione. La Fii per la singola partita e via, la vita continua. Esattamente come prima, avete anche le immagini e gli highlights di 15 campionati europei, oltre quelli italiani, sull'app di OneFootball. L'app di OneFootball è nella descrizione di questo video, scaricatela, l'app di OneFootball vi aspetta, l'app di OneFootball è gratuita. Stefano Pioli, di cui abbiamo iniziato a parlare in questa chiacchierata, che dovrà a Londra contro il Chelsea reinventarsi un po' la formazione. A me non piacciono le iperboli, io francamente mi permetto di dire ai colleghi, tego le difese a pezzi, tsunami di infortuni, ragazzi calma, calma, stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di un gioco, di ragazzi che si sono fatti male, che torneranno a giocare a pallone appena possibile. Onestamente non capisco il calcare la mano, va bene dare colore e dare importanza al pezzo, a ciò che si scrive, ma calcare la mano e immaginare la distruzione totale, calma, calma perché se c'è una squadra che ha sempre dimostrato di saper andare oltre queste insidie, queste difficoltà, questo è proprio il Milan. Si è parlato tanto di Origi e Rebic, Rebic ha segnato a Empoli e Origi potrebbe essere, lo scopriremo nelle prossime ore, convocato per la trasferta con il Chelsea a Londra, quindi anche lì si era parlato addirittura di mercato, ragazzi, di mercato a settembre, mercato di gennaio per Origi e Rebic, direi calma, 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 è chiaro che il mondo giornalistico e il mondo mediatico non può nutrirsi di calma, lo capisco perfettamente e capisco il lavoro di tutte le testate, di tutti i colleghi, di tutti i titolisti, mancherebbe altro, però dal mio punto di vista mi permetto di offrire questo piccolo e modesto contributo. La copertina, il presidente Moratti, che guardate, erano così belle le sfide fra il presidente Berlusconi e il presidente Moratti e quindi lo includo, lo inserisco nel fascino, in una Milano che riusciva a essere al di sopra del paese dal punto di vista calcistico, cioè negli anni in cui Milano e Inter andavano per la maggiore, grazie a Silvio Berlusconi e grazie a Massimo Moratti, il calcio milanese riusciva a essere meglio della media nazionale di costi, di introiti, di successi del paese. Oggi invece siamo in linea e lo vediamo anche dalla questione stadio, siamo in attesa che le norme della politica, perché si tratta comunque di norme, le norme della politica ci consentano di avere un grande distretto da mettere al servizio di Milano, di migliorare anche San Siro come è stata migliorata Milano in molti suoi aspetti, dall'arco della pace, ai Navigli, a City Life, a quant'altro, anche San Siro, perché non San Siro? Perché non San Siro? Per consentire a Milano e Inter di non perdere, consentitemi, rischio di essere blasfemo ma mi capirete l'ira di Dio ogni anno. Però Massimo Moratti ieri nel fare le sue considerazioni sull'Inter ha detto la sua su Zanga, ha detto la sua sul momento della squadra e dice abbiamo già regalato, mi sembra di sentire, abbiamo già regalato uno scudetto al mio, mi sembra proprio di coglierlo e di sentirlo. Oh ragazzi, il calcio è questo, il calcio è rivalità, leggevo poco fa che dalle parti di Manchester si sono lamentati perché nell'intervallo del Manchester Derby sul 4-0 a favore del City contro lo United, entrando negli spogliatoi, De Gea, portiere United e De Bruyne, giocatori del City, di chiacchieravano tranquillamente. E no, si dice, ci deve essere il sale della rivalità, ci deve essere il Derby, se no che Derby è? Se in campo è come niente fosse una parità normale, alla fine si perde senso del Derby. Quindi è normale che da una sponda della città e dall'altra sponda della città si dicano cose diverse, si dicano cose che fanno arrabbiare a turno gli uni e a turno gli altri. Quindi dice scudetto regalato il Presidente Moratti, ma la prima reazione è che gli scudetti non si regalano, si vincono. Io tante volte chiacchieravo con alcuni amici interessi dicendo ma insomma l'abbiamo così strameritato noi questo Derby che mi dispiace averlo perso o pareggiato, ma i Derby non si giocano, si vincono. Ma me lo sentivo dire io, però poi scopri che se lo perdono loro il Derby o lo scudetto è meglio giocare e meritare piuttosto che vince. Però io non in relazione alla frase del Presidente Moratti, non in relazione a quella. Il Presidente Moratti dice esattamente quello che ritiene, quello che crede, io non mi permetto e non entro nel merito. Però vorrei ragionarci su questa cosa perché è un concetto che fa parte del calcio parlato ogni giorno di oggi. Lo scudetto non l'ha vinto il Milan ma l'ha perso l'Inter. Parliamone, parliamone. Perché qual è la vexata questio? Il famoso Derby dominato 70 minuti? In 70 minuti di dominio Mignon ha fatto due parate oltre al gol subito. Poi sono disponibile a rifare la contabilità. Certamente era un Inter molto forte, certamente mancherebbe altro. Però se quell'Inter lì perde il Derby contro di noi, perché comunque ragazzi finché il risultato è sull'1-0, anche se hai dominato come viene detto per 70 minuti, non è che io mi è proibito guardare la porta avversaria. Quindi il Milan ha vinto e dopo quel risultato lì, ad esempio l'Inter in quel periodo ha pareggiato anche 0-0 in casa del Genoa. Con tutto rispetto per il Genoa. Il Genoa però poi è retrocesso. Il Genoa l'anno scorso era veramente una squadra di difficoltà. E allora se o il contraccolpo è stato generato dal Derby, ma allora mentalmente non eri abbastanza forte da vincere lo Scudetto, oppure la squadra dell'Inter da gennaio, febbraio in poi qualche problema l'ha avuto e allora non è che mi ha regalato lo Scudetto. Se ragazzi noi avevamo avuto i problemi a novembre e dicembre, l'Inter li ha avuti a gennaio e febbraio e siamo andati avanti. Perché se il Milan che ha avuto in regalo lo Scudetto, Milan-Spezia, Milan-Udinese fossero andati diversamente, se non ci fosse stata l'epidemia di infortuni a novembre e dicembre, questo campionato si sarebbe chiuso a marzo. Ecco arriviamo a marzo. Alla sosta di marzo il Milan è in testa alla classifica con un vantaggio sull'Inter che prescinde da Bologna-Inter. Cioè dopo Cagliari-Milan 0-1, sosta per le nazionali di fine marzo, anche se l'Inter vince a Bologna, il Milan resta primo. Anche se l'Inter vince al recupero, il Milan resta primo. Qual è il problema? È che è il Milan che rischia di regalare, tra virgolette, lo Scudetto. Perché alla ripresa del campionato, Milan-Bologna 0-0, Torino-Milan 0-0. Cioè due partite senza gol fatto in 180 minuti. È con quelle due partite lì che il Milan ha rimesso in discussione lo Scudetto. Quindi, sapete, di uno Scudetto ci possono essere tante letture. La mia personalissima è questa. È chiaro che dopo tu, se hai pareggiato due partite, mentre l'Inter attraverso una prestazione particolare e anche qualche episodio favorevole è andata a vincere a Torino, è chiaro che poi lo Scudetto che avevamo in mano noi è passato in mano loro ed è tornato in mano nostra dopo Bologna-Inter. Quindi ci sono tanti andirivieni dello Scudetto. Non è un regalo unidirezionale, mi permetto di dire al presidente Moratti con il massimo del rispetto e il massimo della stima, potrei dire anche un pizzico d'affetto al di fuori delle cose calcistiche. No, affetto e stima al di fuori delle cose calcistiche avevo conosciuto il presidente Moratti alla fine degli anni 90, quando si stava battendo per cercare di portare a Milano le Olimpiadi del 2000, pensate. E lo faceva con una grandissima qualità, su questo non c'è dubbio. Però sullo Scudetto dell'anno scorso mi si è consentito di dire da tifoso a grande presidente, non siamo d'accordo. A più tardi ragazzi, da Milanello, a più tardi da Milanello.